la crescita in cui siamo ancora sul sito di nuovo sul questo di nuovo sul white paper di 10 pagine a qua ci fa anche una comparazione con i competitors che chiaramente vi lascio lascio fare a voi direttamente altrimenti ci annoiamo in questo video allora torniamo un attimo sul sito ufficiale andiamo a vedere il team il team è importante molto spesso importante anche a volte non è tanto importante dico la verità però se c'è è una buona cosa qui parliamo di del team con i vari profili linkedin che presenta vedere sono esistenti mente attivi esperienze registrate su vari profili ecco qui si può andare a vedere andiamo un attimo sulla pagina principale questo john king 6 professional trader trader professionale con un'esperienza molto spesa nel rischio manageriale con praticamente un aspetto di tecnologia ecco vari aspetti allora infine non sto qui a elencare per tutti altrimenti vi hanno ma potete andare a vedere qui andando sul sito principale abita.com slash it andate su team e vedete spulciare tutti se volete poi andando qui in fondo ci sono anche vari social facebook twitter e i canali telegram e gruppo poi se ne andiamo su documents troviamo i documenti che vi ho fatto vedere il white paper una pagina sarebbe questo qui poi torniamo un attimo indietro il white paper a 16 pagine termine condizioni e poi white paper 69 pagine in inglese allora come vi chiederete il costo di ogni arbitrao quanto sarà